Siamo con Rafael Nadal, l'autore del Figlio dell'italiano, un libro che ho tradotto io, Stefania Maria Ciminelli, per Dea Planeta. Vogliamo fare qualche domanda per vedere se Rafael Nadal ci parla di questo libro. Prima di tutto, come nasce questa storia? Sì, io stava in un piccolo paese catalano, Caldas da Malabella, in la biblioteca facendo un circolo di lettori parlando di un libro precedente, che ho tradotto anche per te all'italiano, Il secreto dell'ultimo figlio, e quando stava presto a finire il circolo di lettori si ha passato un uomo, io non lo conosceva, era il giudice di pace di questo piccolo paese, e mi ha detto vuoi conoscere la storia di mille marinai italiani che hanno stato rifugiati qui a Caldas ho pensato strano, ma che fai? Va bene, parla, siamo seduti un'altra volta, ho iniziato a parlare e dopo cinque minuti ho intervenuto a fermarti perché io ho bisogno di scrivere quello che tu stai mi stai raccontando, perché ho visto che questa è una storia meravigliosa e ho detto possiamo rivedersi domani per il pranzo, si siamo ritrovati in un ristorante e alla fine del pranzo mi aveva innamorato da questa storia e questa persona mi ha definitivamente convinto, quando mi ha detto mi ha fatto un piccolo spoiler e mi ha detto che la storia di questi mille marinai che effettivamente aveva stato un anno rifugiati a Caldas, finisciva con tre sposati, tre marinai esposati con tre donne della regione e soprattutto aveva detto la ruborologia cui a Caldas sempre ha parlato che l'etratge della presenza dei mille marinai in Caldas è molto più grande, lunga, e possibilmente ci sono molti ragazzi figli italiani in questa regione e mi ha detto se vuoi ti può presentare uno che vive vicino a me che è un uomo con 70 anni adesso ha iniziato solo con 70 anni a cercare il suo padre seguendo la pista da questi mille marinai italiani e quindi questa idea di poter conoscere un protagonista di questa storia ti ha attratto? è evidente quando mi ha detto io conosco molto uno e ti lo può presentare ho detto questo è un miracolo voglio andare adesso, mi ha presentato e mi ha presentato Matteo che è il protagonista del libro Matteo è un ragazzo che vive nella casa più misera, più povera da questo paese il padre è molto violento, lo picchia e lui pensa solo a partire da questa casa, a prosperare, a fare una vita differente si sente differente, inizia a sentire che la gente più grande da questa città, da questo paese dice ma che spabilato è questo ragazzo, questo piccolo italiano inizia a pensare non solo mi sento differente, è possibile che io sono differente, è possibile che io sono figlio di uno di questi mille marinai perché già circolavano le voci, no? si effettivamente e tutta la vita ha saputo, ha pensato che possibilmente era figlio di un italiano ma non ha fatto mai questione, non ha preguntato mai non ha chiesto e qual è stato il momento in cui ha deciso di ricercare la sua storia? un giorno c'è una donna, si presenta alla sua donna, la donna di Matteo con una fotografia da undici marinai italiani presti a giocare una partita di calcio e il ragazzo che incentra la fotografia quando la moglie di Matteo lo vede dice ma è il mio marito, è Matteo, ha preso la foto, l'ha portato alla sua casa e questa notte quando è arrivato Matteo mostra la fotografia, Matteo è in shock ma finalmente dice non vuoi sapere niente e questa fotografia rimane per 30 anni in una casetta? si, si 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 è abbandonata fino al giorno che muore la madre di Matteo e questo giorno in cimiterio Matteo dice alla sua donna Neus oggi si è morta la mia madre, non posso offenderla non potevo prima offenderla no adesso non posso offenderla, si posso, si pregunto si chiedo si chiedo e adesso voglio iniziare a cercare il mio padre seguendo la pista di questa fotografia e così arriva un giorno a Genova a un appartamento da Genova e arriva alla porta e chiama bussa alla porta della famiglia si e dice buongiorno vengo a chiedere se tu sei il mio padre ecco e così inizia il libro questi marinai, torniamo un attimo indietro perché abbiamo parlato appunto che questi mille marinai erano stati un anno a Caldas e come mai erano lì? si questi marinai finalmente sono i super city dall'affondamento dalla Roma della nave Roma della nave Roma quando il 9 settembre 1943 il giorno dopo l'armistizio la regia marina italiana parte il cammino da Malta e il cammino da Malta fa una sosta, si ferma alla base navale dell'isola Magdalena ma quando arrivano lì ci sono i nazisti che hanno occupato la base e partono, non voglio entrare con i nazisti e quando i tedeschi vedono che le navi italiane partono, non entrano alla base parlando con Berlino Hitler personalmente da le ordine che la flotta italiana, la regia marina italiana deve essere bombardata e ci sono cinque bombardieri con le prime bombe teledirigite le bombe teledirigite dalla storia il Roma è affondato e tutta la regia marina parte velocemente per fuggire per fuggire da Alda erano nel golfo della Sinara, no? si, la Sinara, il Porto Torres tra Corsica e Sardegna e restano lì le navi più piccole per prendere tutta la gente che si è gettata in acqua si e li portano in risalvo si, quando li hanno salvati, li hanno rescatati si, li hanno salvati non possono ritornare in Porto Italiano perché sono tutti occupati dai tedeschi non posso parlare con il resto della regia marina perché hanno chiuso le comunicazioni per evitare i bombardamenti non saperò che cosa fare e finalmente cercano il porto neutrale più vicino Mahon, Menorca arrivano lì, stanno quattro mesi a Mahon e finalmente ci sono qualche manifestazione proteste e finalmente Franco decide di inviarli tutti di portarli tutti a Caldas alla peninsola, alla Catalogna e così arrivano in gennaio 1944 a Caldas de Malavella che in questo momento ha 2.000 abitanti siamo quattro anni dopo la guerra civile spagnola molti uomini sono morti alla guerra e arrivano in questo piccolo paese da 2.000 abitanti arrivano 1.000 giovani che sono fuori da casa dopo un anno e arrivano lì per la rivoluzione e così iniziano la storia e così si conosce la madre di Matteo uno dei marinai che sarà l'altro protagonista del libro e la cosa curiosa perché tu sei molto interessato anche alla storia italiana perché anche nel libro precedente c'erano degli episodi della storia italiana perché la storia italiana è un po' vicina alla nostra non c'è esattamente una guerra civile all'Italia ma è quasi una guerra civile come abbiamo avuto in Spagna i fascisti i franchisti per noi è una storia molto vicina e penso che per noi è facile da capire la storia italiana e siamo molto interessati a questa parte della storia italiana e dopo perché mille marinai è una sorpresa per me e penso che era molto interessante da seguire il rastro che non fariamo un spoiler adesso di come finisce la storia ma dire che inizia il libro con la storia della famiglia catalana il libro finisce con la storia della famiglia italiana e dove finalmente si si podrà descobrire se realmente è il padre o non è il padre di Matteo grazie grazie